Ciao a tutti e bentornati su Viaggiamo Easy. Oggi ci immergiamo in un'avventura straordinaria nel cuore dell'Amazzonia. Esploreremo la densa giungla, i maestosi fiumi e la vita selvaggia unica che rendono questa regione un vero paradiso naturale. Prima di iniziare però vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere le prossime avventure. Iniziamo il nostro viaggio immergendoci nella profonda giungla amazzonica. Attraverso sentieri intricati esploreremo la flora lussureggiante, ascoltando il frastuono degli animali nascosti tra gli alberi secolari. La biodiversità qui è incredibile e ci lasceremo avvolgere dalla magia di questo ambiente unico. Ci dirigiamo verso i maestosi fiumi amazzonici per un'esperienza davvero unica. Saliremo infatti su una tradizionale imbarcazione e ci lasceremo trasportare dalla corrente. Ammirando le spionde fiorite, sentiremo il respiro della foresta e scopriremo la vita che prospera lungo le rive. La vera anima dell'amazzonia è però la sua vita selvaggia. Attraverso le fronde degli alberi avvisteremo coloratissimi pappagalli e potremo sentire il richiamo dei maestosi giaguari nascosti tra la vegetazione. La fauna qui è davvero variegata e affascinante e cercheremo di catturare la sua bellezza nei suoi sguardi e nelle nostre riprese. La cultura amazzonica è ricca e diversificata. Visiteremo alcuni villaggi locali per comprendere il legame profondo tra le comunità indigene e la foresta. Condivideremo storie, ascolteremo antiche tradizioni e scopriremo come queste popolazioni mantengono l'equilibrio con l'ambiente circostante. Questo luogo è davvero magico, per questo è davvero molto importante combattere il discoboscamento per salvaguardare la flora e la fauna locale. Successivamente ci spostiamo verso le spettacolari cascate di Guazzo, immerse nella serva amazzonica. Questo miracolo naturale ci accoglie con il fragore dell'acqua che si tuffa da alte vette rocciose, formando una cortina di spruzzi color arcobaleno. L'atmosfera è davvero magica e ci avventuriamo attraverso passerelle panoramiche per ammirare da vicino la grandiosità di questo spettacolo naturale, circondati da una selva pluviale vibrante di vita. Esploriamo poi il tranquillo lago Sandoval, una perla nascosta dell'Amazzonia. Le sue acque calme riflettono infatti il verde intenso della giungla circostante. In barca è possibile avventurarsi nel labirinto di canali, avvistando che ai mani sono lenti, maestosi uccelli tropicali e forse, se saremo anche fortunati, il rarissimo lupo di mare. Lungo le sue rive ci immergiamo poi nella serenità della natura, ascoltando il canto degli uccelli e ammirando le orchidee selvatiche. Ci avventuriamo poi nella collana di laghi Iacayuna Bucate, una serie di specchi d'acqua incastonati nella giungla. Ogni lago offre infatti una prospettiva unica sulla bellezza amazzonica. Attraverso la barca esploreremo questi laghi tranquilli, osservando tartarughe, delfini di fiume e una miriade infinita di uccelli. Le rive sono punteggiate di palme e piante tropicali, creando uno scenario di liaco nel cuore della foresta pluviale. Concludiamo la nostra avventura nella magnifica Amazzonia, attraverso giungle, fiumi, villaggi e luoghi segreti. Questo viaggio è stato un'esperienza straordinaria, un'immersione in luoghi naturali più straordinari del nostro paese. Se avete apprezzato il video condividetelo, lasciate un like e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto per nuove esplorazioni. Scrivete inoltre nei commenti le vostre impressioni e quale luogo vi piacerebbe visitare. Come sempre vi aspetto nel prossimo video.